Alessandro Bovolenza, sei partita e sei vittorio, un primo posto in classifica che è storia per Piacenza, domenica si alza ancora l'asticella, c'è la Lube, che partita ti aspetti? Una partita molto difficile anche perché giochiamo in casa da loro ed è molto complicata per me, quindi dobbiamo essere molto concentrati, dobbiamo tenere la costanza del nostro gioco, essere concentrati su di noi e sul nostro gioco perché giochiamo molto bene se vogliamo, perciò bisogna essere molto concentrati.